Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 per questo nuovo incredibile Wotip Ovvero le storie inventate da me che vanno a cambiare l'intera cronologia, l'intera storia di Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super Oggi vedremo una storia incredibile che vedrà come protagonista Radish Beh ragazzi, cosa sarebbe successo se Radish non fosse morto? Lo andremo a scoprire insieme Pollice in su, superiamo i 5000 like per nuovi Wotip Come anticipato nell'intro, Radish riesce a sfuggire alla presa di Goku e quest'ultimo è l'unico a morire a causa del cannone dell'anima di Piccolo Quindi ragazzi, questa volta lui è riuscito a scappare e va proprio via, mentre Piccolo ormai è davvero stremato insieme a Gohan Nel frattempo succedono tante cose, Goku comunque va dare Kaio, si allena, ottiene il Kaio Ken e di conseguenza viene resuscitato Beh per quale motivo? Chiaramente per ritornare in vita, ma poi perché stanno arrivando purtroppo i Saiyan Come mai costoro arrivano comunque sulla Terra nonostante Radish non sia morto? Beh ragazzi, ora vi lo spiegherò, quindi aprite bene le orecchie Andiamo chiaramente alle montagne perché è qui che ci sarà lo scontro Ricordate una cosa fondamentale, che lo scouter di Radish è sempre attivo, è sempre in funzione Quindi comunque Nappa e Vegeta hanno ascoltato tutte le conversazioni E sanno che Radish ormai sul pianeta Terra ha praticamente fallito e vogliono andare lì per ucciderlo Lui quindi non può fare altro che unirsi inevitabilmente ai guerrieri Z e di conseguenza si allena insieme a loro La sua possiamo definirla come una mossa disperata Di certo non ha una minima intenzione di riunirsi a Goku come se fosse davvero suo fratello Cioè è davvero suo fratello, ma non c'è amore fraterno, possiamo metterla così Nappa e Vegeta chiaramente ragazzi sono potentissimi Ma forse stanno sottovalutando una cosa Che l'allenamento dei guerrieri Z è un allenamento davvero speciale Perché gli permette di incominciare a sviluppare quello che è il loro livello di potenza E soprattutto di incrementarlo in un determinato momento, a loro piacimento Cosa che Nappa e Vegeta, se ricordate, non sono in grado di fare Più che altro capiscono che questa è una sorta di tecnica Una tattica per mascherare il livello di potenza Però comunque fino a quel momento non se ne accorgono minimamente Radish infatti riesce a tenere testa in una maniera incredibile a Nappa Che come vedete comunque si sta scatenando tantissimo Ragazzi, allora, io vado a fare una carica di energia, non mi serve Allora provo a colpire, niente da fare Allora ci avviciniamo Ragazzi, quello che vedrete avrà delle ripercussioni assurde Sulla storia di Dragon Ball E Radish otterrà delle trasformazioni Quindi guardate questo video fino alla fine Perché anche l'ultimo scontro presenterà una trasformazione assurda Fidatevi Allora, ormai ci siamo quasi Radish, come vedete, tenta in tutti i modi di colpire Nappa Che comunque si sta facendo valere Mi scaraventa giù Ragazzi, mi metto in difficoltà Ma noi procediamo Addio vacanze Nulla Non posso crederci Allora dobbiamo colpire Vai così Abbiamo distrutto il vigore Ragazzi, per lui è la fine Boom! E Nappa è stato definitivamente sconfitto Adesso toccherà a Vegeta Quindi notate La storia è di già cambiata Nappa non è stato sconfitto da Vegeta Che voleva cancellare dalla faccia della terra Il suo protettore Che era la sua guardia del corpo Nappa Ancora non l'abbiamo capito Una sorta di maestro Guardia del corpo In ogni caso Vegeta sembra quasi scappare E Tra l'altro Non sembra avere il tempo Nemmeno di creare La sua sfera di energia Che gli permetterà poi Di trasformarsi Direttamente Nella grande scimmia Quindi ragazzi Vegeta ormai è finito E noi colpiamo così Con addio vacanze Ed ecco la distruzione Incredibile Dei Saiyan Quindi Radish Ha combattuto Con suo fratello Per la prima volta Per la prima volta Sono dalla stessa parte Quali sono le ripercussioni Di questo cambiamento? Beh che piccolo Non è mai morto Per proteggere Gohan E di conseguenza Le sfere del drago Sono ancora intatte Quindi amici miei C'è un lungo periodo di pace Perché nessuno Va Su una mech Purtroppo però Qualcosa sta comunque Per succedere Perché ragazzi miei Purtroppo Freezer sta giungendo Sulla terra E' venuto a sapere Che comunque Sul pianeta terra Ci sono delle sfere Del drago E dopo il pianeta terra Si dirigerà Su una mech Per quale motivo Tutto ciò ragazzi Aprite bene le orecchie Freezer E' giunto sul pianeta Insieme ad un altro personaggio Ed eccolo qua ragazzi Si tratta di Cooler E ora scoprirete Il perché Badate bene Entrambi Non si parlavano Da davvero tantissimo tempo Quasi si odiavano Però hanno deciso Di unire le forze In modo tale Da poter utilizzare Entrambi Le sfere del drago Un primo desiderio E' quello Da parte del carissimo Freezer Di diventare immortale E lo avrebbe espresso Sulla terra Mentre invece Cooler Avrebbe espresso Il desiderio Di diventare Immortale Sul pianeta Namek Non sapendo chiaramente Che su una mech Le sfere del drago Esprimono Tre desideri In ogni caso Ragazzi Il periodo di pace Sulla terra È stato davvero Lunghissimo Quindi questo Ha fatto in modo tale Che Goku E Radish Abbiano incominciato A diventare Dei veri fratelli E a comportarsi Come tali Un po' Come è successo Poi a Vegeta Se ricordate Vegeta Era davvero spietato In una maniera Incredibile Ma poi si è ammorbidito E in Dragon Ball Super Oserei dire Anche troppo Vabbè E' un'evoluzione Del personaggio Ci può anche stare Però ragazzi Questo cambiamento Ha fatto in modo tale Che poi Anche Freezer Decidesse Di ricongiungersi Con il suo Di fratello Proprio per unire Le forze E di conseguenza Andare Ad avere manforte Su quello Che è il loro Piano malvagio C'è qualcosa Che però ragazzi Vi devo svelare Appena giunti Sulla terra Freezer E Cooler Hanno devastato Tantissime città Le hanno completamente Distrutte Ma ancora peggio Ragazzi Hanno eliminato Un botto Di guerrieri Z Quindi questo Mette i Saiyan In una condizione Davvero disperata E li spingerà Ad esprimere Un potere Che solo I Saiyan Dal cuore puro Possono esprimere Quindi ragazzi Preparatevi A quello che vedrete Forse per la prima volta Per Radish Allora Buttiamolo via Ed eccolo qua Il Super Saiyan Incredibile Amici miei Voi direte Joseph Ma Radish Non ha Un cuore puro Come fa a trasformarsi In Super Saiyan Vi ricordo che anche Vegeta Di base Un cuore puro Non ce l'ha Perché ragazzi Per tutta la sua vita Ha fatto devastazioni Incredibili Questo dobbiamo ammetterlo Però Comunque riesce a trasformarsi L'importante È riuscire poi Ad ottenerlo Quel cuore puro Quindi è una cosa Davvero Molto importante Da tenere a mente Allora Qui abbiamo Un'odd energetica A massima potenza Vai Radish E lo stesso Comunque dovrebbe fare Anche Goku Dovrebbe trasformarsi In Super Saiyan Al momento però La mod Non vuole trasformarsi In alcun modo Cioè proprio il gioco Non è una mod Non gli permette Di trasformarsi Ma noi ragazzi Attaccheremo Vai così Con addio vacanze E distruggiamo Freezer Ma ragazzi Entrambi Saranno davvero Sconfitti Purtroppo ragazzi Non è così Entrambi Sono ancora Vivi E vegeti E ora vedrete Quindi andiamo Scegliamo Radish E questa volta Entrambi esprimeranno Il loro Vero potere Freezer Otterrà Il corpo Perfetto Mentre invece Cooler Otterrà la sua Ulteriore trasformazione Che vi ricordo Avere in più Rispetto al fratello Ed è una cosa Davvero da considerare Andiamo alle montagne Perché ragazzi Lo scontro Va avanti Davvero per tantissime ore Perché è qualcosa Di devastante E il fatto che entrambi Siano dei Super Saiyan Li mette in una condizione Comunque Di relativo vantaggio Andremo a vedere Ed ecco Goku È arrivato il suo momento Ragazzi Vai così Goku È arrivato il tuo turno Esprimi il vero potere Di un Saiyan E quindi ragazzi Ci siamo Anche per Goku C'è il Super Saiyan Goku Il grande Super Saiyan Si attiva anche La Super Anima Assurdo Quindi ragazzi miei Andiamo nello scontro E c'è lo scontro Vero e proprio Tra i due C'è ragazzi Qualcosa di incredibile Tra l'altro Il fatto di combattere Insieme Mette anche Come dire Goku In una condizione Di ulteriore Gasamento Esiste in italiano Staparò No Mi sa di no Non esiste Però comunque Un'euforia Assurda Perché sapete Voi stessi Che Goku Ragazzi Quando deve intraprendere Uno scontro Lo fa sempre In un modo Come dire Tra virgolette Gioioso Anche nei momenti Più tragici L'abbiamo visto Soprattutto in Dragon Ball Super Che Vuole davvero Tante tante sfide Allora ragazzi Io vado con una bella Kamehameha Che colpisce appieno L'avversario E poi colpirei Con un attacco Del meteorite Non è servito? Sì perché ragazzi Ci ha aiutato Radish Entrambi Super Saiyan Questo ragazzi È qualcosa Che entrerà Nella storia Mettiamo una capsula Per curarci un po' Anche perché Sto notando Che Cooler Ora ci ha scelti Come nuovo bersaglio Noi Proveremo ad eliminare Prima lui Quindi ragazzi Sarà il nostro obiettivo No Volevo colpirlo Vai così ancora Proviamo a distruggerlo Goku Dobbiamo fare in fretta Perché ragazzi Radish Sembra essere In difficoltà Nonostante Il suo Super Saiyan Tra l'altro Proprio di Radish C'è da dire una cosa È molto particolare Il fatto Che lui Abbia di già I capelli Così lunghi Ragazzi Ci avete pensato Che effettivamente Trasformato in Super Saiyan Pare che abbia Di già il Super Saiyan Di terzo livello È una cosa Molto curiosa E tra l'altro Freezer è stato sconfitto Ragazzi Radish Potentissimo Non so cosa dire E andiamo Super Kamehameha E nemmeno serve Ragazzi Radish Ha eliminato Da solo Entrambi Ha distrutto Completamente Coloro Che si professavano Futuri Imperatori Dell'universo Passano quindi Tantissimi anni E Radish Ottene il Super Saiyan Di quarto livello Ormai I due fratelli Saiyan Sono diventati Invincibili Insieme Ed eccolo qui Ora ragazzi Vi parlerò di un'altra caratteristica Importante Di tutta questa situazione Ragazzi In pratica Avete notato Che Vegeta In questa storia Non c'è E' stato direttamente Eliminato all'inizio Di Dragon Ball Z Ovviamente In questo What if Quindi Non lo rivedremo Personaggi Come Che ne so Trunks Bambino O anche Trunks In questa linea temporale Non esistono Quindi è una cosa Una piccola curiosità Allora Avete notato Di già subito Quanto spacca In una maniera Incredibile A questa mod Di Radish Lo stile di combattimento Chiaramente è ancora quello Per lui Nel corso degli anni Ha mantenuto questo potere E i due Nonostante le grandi E tantissime Numerose vittorie Hanno continuato Ad allenarsi Bisogna dire anche Una cosa molto particolare Che potrebbero In futuro Ottenere anche Nuove trasformazioni Chi lo sa In ogni caso Ragazzi Entrambi Soprattutto andando poi In Dragon Ball GT Perché qui Che hanno ottenuto Il potere del Super Saiyan Di quarto livello Hanno affrontato Davvero tante battaglie Insieme E ne sono sempre Usciti i vincitori Quindi ragazzi Si va Vediamo un po' Se riusciamo a sconfiggere Goku Dai Allora andrei Con la doppia domenica Poi abbiamo la tempesta Improvvisa Che colpisce Malamente Goku Ragazzi Ci sarà la conclusione Dai Vediamo Goku Cos'è che riesce a fare Una semplice Kamehameha Per 10 Dai Goku Cos'è che fai Proviamo a pararci Dai Voglio vedere Cos'è che riesce a fare Noi tra le altre mosse Abbiamo il colpo di rottura Ammesso che riesca a farlo Fallora No Non avevo il vigore necessario Pensavo di riuscirci Peccato Vabbè in ogni caso Ragazzi Ci facciamo anche un po' malmenare Anche se vorrei spostarmi adesso Benissimo E andiamo così Col calore coraggioso E c'è la conclusione Con la vittoria Da parte di Radish Chiaramente Questo risulta Solo un semplice Allenamento Tra i due Se volete altri what if sul mio canale Pollice in su Attivate le notifiche Se ancora non l'avete fatto Ma cosa più importante tra tutte Iscrivetevi Cliccando qui al centro Potete guardare altri video Presenti sul mio canale di youtube Come il mio what if per eccellenza Ovvero Dragon Ball AF Cliccate sulle miniature Alla prossima Ciao